Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.608 tamponi, 1.425 nel percorso nuove diagnosi e 1.183 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 504 e di questi 70 casi provengono dalla provincia di Pesaro e Urbino. Durante la seduta fiume sull'emergenza Covid-19 del Consiglio regionale che si è tenuta ieri, l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha fornito il quadro complessivo della situazione sanitaria nelle Marche. Sono state illustrate le misure di prevenzione e contrasto della pandemia messe in campo in questi giorni e i prossimi provvedimenti che la Giunta regionale intende adottare. Abbiamo aumentato il numero dei tamponi da somministrare in via preventiva ai cittadini, attualmente si viaggia su 2.000 tamponi al giorno, abbiamo chiesto 5.000 tamponi di cui 2.500 antigenici rapidi. Poi abbiamo aumentato le pattuglie USCA, unità speciali di continuità assistenziale, quelli che fanno le visite domiciliari. A questi ragazzi sono medici e un infermiere, abbiamo acquistato nuovi scanner per la digitalizzazione sostanzialmente di ecografia toracica per impedire che i malati debbano recarsi negli ospedali. Poi abbiamo chiesto un unico protocollo di cure domiciliari, un unico protocollo di cure cliniche e ospedaliere con l'uso di nuove terapie, tra i quali l'ozono, la clorossiclorichina e un aumento dell'impiego del plasma derivanti da soggetti che si sono guariti dal Covid. L'indice effettivo di valutazione della pericolosità delle patologie si vede dal numero dei ricoverati nelle terapie intensive, perché è lì che si salva la vita. Quindi attualmente abbiamo la metà dei ricoverati, 62 persone su 126 posti disponibili. Naturalmente il problema delle case riposo deriva dal fatto che questa patologia, il Covid, può aggravare sostanzialmente il quadro clinico dei pazienti da un momento all'altro. L'avanzata età e probabilmente la compresenza di altre patologie può portare queste persone ad essere ricoverate nelle terapie intensive. Per questo abbiamo disposto che la cura sia eseguita non più dai medici di famiglia, ma da specialisti del servizio sanitario, da medici ospedalieri, da infermieri ospedalieri, con terapie ospedaliere. Io penso che di fronte a questa guerra dobbiamo unire le forze, poi tutti potranno poi, i partiti, i consiglieri, svolgere le loro attività. Vero è però che il quadro è un quadro complesso derivante dall'ammancato acquisto di vaccini. Abbiamo comprato 500.000 vaccini in meno rispetto a quelli che ci servivano, adesso il mercato non riesce a garantirli. C'è una sottostima dei tamponi per l'accertamento del Covid, non sono stati banditi alcuni concorsi che potevano essere banditi. Diciamo che c'è tutto un sistema abbastanza fariginoso che deve essere corretto, soprattutto per la presenza di quattro aziende ospedaliere, ognuna delle quali agisce sul mercato del lavoro, quindi i medici e infermieri in modo autonomo.